Il sistema di sicurezza CAST E ora la parola a Samuele Capoccia della CAST Impianti CAST Impianti vi offre tre buoni motivi per acquistare un sistema d'allarme Primo sistema d'allarme senza fili, senza tracce e lavori in casa Secondo è semplice da utilizzare perché con un pulsante si attiva e disattiva l'allarme Terzo e non ultimo il prezzo Riusciamo ad abbattere i costi e a offrirvi un sistema d'allarme a 650 euro L'offerta comprende una centrale 100 zone, la sirena interna alla centrale, due sensori infrarossi Un contatto per la porta d'ingresso, un radiocomando e in omaggio il combinatore telefonico Che servirà ad avvisare 5 numeri telefonici Non aspettate che i ladri entrino nelle vostre abitazioni Installate subito un sistema d'allarme CAST Impianti Non aspettate che i ladri entrino nelle vostre abitazioni